bambini e bambine sono finalmente tornata a casa dopo un lunghissimo viaggio al polo nord vi aspetto alla casa di babbo natale vicino al bar viennese domenica 18 dicembre alle ore 15 in via galas ad arco vi racconterò tante belle storie racconti divertenti ma non solo per l'occasione ho invitato il gruppo musicale sparadraps che suonerà un sacco di canzoni natalizie pensate sarà tutto ripreso e trasmesso in diretta su questo canale a partire dalle 15 se vuoi partecipare chiamate le garda al numero 0464 51 91 91 non mancate e ricordate domenica 18 alle ore 15 in via galas alla casa di babbo natale oppure in diretta su tele garda ci sarà da divertirsi sarà proprio un allegro pomeriggio in compagnia ciao a prestissimo ciao finalmente sei arrivata grazie